La città di Teramo, come comune capofila, denuncia la situazione di stallo che sta interessando oramai da diverso tempo il progetto Muvete. Questo perché ad oggi la regione non ha ancora stanziato gli oltre 350.000 euro necessari per l'avvio dell'iniziativa, che vede interessati 10 comuni della provincia terramana. L'obiettivo del progetto è di incrementare una mobilità più sostenibile e quindi meno veicoli a motori in circolazione, conseguente diminuzione dell'inquinamento, uso della bicicletta come mezzo per i brevi spostamenti, casa lavoro, casa scuola, velo stazioni e posteggi per le bike in punti centrali nei comuni che hanno aderito. Ma palo perché la regione Abruzzo di propria iniziativa ha ancora non versa, attua, che è poi soggetto attuatore di questo progetto importantissimo, delle prelostazioni in molti comuni nella provincia di Teramo, dove il nostro comune è capofila e dove ci sono altri comuni come tutti quelli della costa o comunque sulla linea che da Teramo va giù a noi come Bellante, Castellalto e Mociano. Il progetto è iniziato alcuni anni fa, il progetto è arrivato in una buonissima posizione a livello nazionale, mancano i soldi della regione, 390 mila euro già impegnati con dei libri di giunta regionale ribaditi in conferenze dei servizi e a questo punto però non arrivano dove devono arrivare e quindi il progetto è bloccato. Purtroppo noi abbiamo anche a Teramo la possibilità di realizzare due prelostazioni, una alla stazione ferroviaria e l'altra all'autostazione di Piazzale San Francesco che tra poco sarà soggetto anche a un importante restyling. Ma senza questo tassello fondamentale andrà a incidere fortemente sul PUMS che è uno strumento che stiamo portando avanti, l'abbiamo presentato come linea guida nelle settimane scorse ma se iniziano a mancare tasselli importanti ovviamente tutto il progetto poi ne verrà a risentire. A sostenere la protesta anche il consigliere regionale di opposizione Dino Pepe. Sono 390 mila euro già definiti attraverso una delibera di giunta regionale proprio per contribuire a questo progetto per una spesa complessiva di un milione e sei. Sono coinvolti dieci comuni a cominciare da Teramo, comune e capofilo, un progetto strategico per la mobilità sostenibile, casa lavoro e casa studio e siamo qui a chiedere alla giunta regionale di intervenire in maniera celere e concreta. Grazie a tutti.